buongiorno a tutti benvenuti a questo nuovo appuntamento con webinar di edicom ormai ci abbiamo quasi preso l'abitudine a vederci il venerdì a quest'ora a chiudere la settimana insieme qualche settimana fa iniziavamo il lunedì a vederci oggi ci vediamo in queste settimane ci vediamo di venerdì e quindi chiudiamo la settimana insieme tra l'altro per la seconda volta di fila ma per la quarta volta chiudiamo la settimana in compagnia di cromologi con loro infatti magari qualcuno di voi avrà seguito diciamo tutti e quattro gli appuntamenti siamo andati un pochino ad analizzare tutto quello che è il mondo fondamentalmente legato ovviamente alle soluzioni cromologi ma legato un pochino alle superfici verticali quindi siamo partiti parlando presentando un bellissimo progetto legato al colore quindi al colore esterno dei nostri edifici come andare un pochino a ridisegnare diciamo la facciata del dell'edificio con con un progetto appunto che teneva in considerazione diversi spunti adattandoli un pochino a tutti quelli che potevano essere diciamo le ambientazioni che ci troveremo ad affrontare un secondo appuntamento fatto circa un mesetto fa sul tema del del cappotto ovviamente tematica molto di di interesse per tutto quello che è il mondo legato al super bonus agli incentivi che speriamo a breve possano entrare diciamo in maniera dirompente a un po ad incentivare il nostro settore il nostro mercato settimana scorsa abbiamo fatto messo insieme diciamo un pochino quello che era prodotto quindi prodotte tecnica da un lato e colore dall'altro abbiamo visto questa unione indivisibile per utilizzare le stesse parole che avevano usato i nostri relatori presenti oggi una figura nuova giuseppe richichi che è ingegnere con lui andiamo ad affrontare una tematica che è una problematica diciamo che riscontriamo molto spesso su determinati edifici in particolare su alcuni lo riscontriamo maggiormente magari giuseppe poi ci introdurrà un pochino a quali sono gli edifici su cui questa problematica è maggiormente presente che è il problema dell'umidità umidità di risalita come andare a risolverla oggi presenteremo innanzitutto il problema capiremo da dove si origina capiremo quali sono gli effetti che causa sulle sulle murature ma poi andremo a delineare un ciclo diciamo andremo a capire quelle che sono le soluzioni da mettere in atto per andare un pochino a mitigare risolvere questo tipo di problematica io vi ricordo solo due cose vedo che ci state salutando ci state dando il buongiorno saluto filippo che era un po che non lo vedevamo partecipare ai nostri ai nostri webinar ciao filippo e niente dicevo vi ricordo semplicemente che tramite quel campo con cui ci state salutando e dando il buongiorno che il campo chat del pannello di go to webinar potete interagire come fate sempre con noi facendo domande in formato scritto che io raccoglierò in qualità di moderatore sarà mio compito può interrompere il nostro giuseppe per fare appunto le vostre domande avete sentito bene ho detto interrompere perché ormai lo sapete a me i relatori piace interromperli perché è giusto che se avete una domanda una questione qualcosa che non avete capito l'affrontiamo subito perché arrivare diciamo alla fine del dell'appuntamento quindi voi scriveteci tranquillamente che poi ci penso io appunto a fare le nostre le vostre domande a giuseppe ricchi detto questo ultima cosa che vi ricordo prima di lasciare la parola a lui cosa che ci chiedete sempre sono gli atti quindi la presentazione che vedrete illustrata tra poco come sempre ve la invieremo via posta elettronica due ore da questo dalla fine di questo webinar che durerà circa un'oretta quindi ci treremo compagnia fino verso le quattro detto questo giuseppe ormai capito che sono un gran chiaccherone quindi lascio la parola a te a cui auguro di essere un gran chiaccherone diciamo e tenerci compagnia per questa prossima ora illustrandoci un pochino quello che dicevamo questa problematica e come andare a risolverla buongiorno giuseppe prego ci proviamo buongiorno buongiorno a tutti io comincio presentandomi brevemente presentando cromologi per chi non non ha avuto modo di vedere i webinar precedenti con i miei colleghi per quanto mi riguarda io sono appunto giuseppe rechicchi sono pro technical service specialist ovvero mi occupo di delle problematiche di cantiere per quanto riguarda il mondo della facciata quindi faccio assistenza tecnica sul territorio in particolare il nord ovest dell'italia e mi occupo insieme a gabriele damiani che avete visto in precedenza negli altri webinar anche in parte della della formazione su tutto il il territorio italiano parliamo oggi in qualità di uno dei marchi di cromologi ovvero cepro cromologi è un gruppo molto più ampio che per quanto riguarda cromologi italia ha all'interno alcuni marchi che sono elencati in alto nella slide ovvero settef è vero per le facciate cepro è la linea calce una linea storica prodotta in diciamo nord italia da da parecchi anni ed è quella appunto per cui parliamo oggi qui vedremo un po di slide duco max meyer e baldini vernici sono invece i brand del del retail quindi diciamo dedicati agli interni e poi una serie di di marchi anche specifici della grande distribuzione oggi diciamo il meglio la parte di formazione a cui si rifà anche il webinar di oggi fa capo a una una struttura all'interno di cromologi che cromo campus cromo campus ha una struttura fisicamente collocata in sede la sede cromologi che si trova a lucca ma si occupa su tutto il territorio di fare formazione sia in aula teorica e pratica formazione online in questo periodo chiaramente è gran parte della formazione è stata spostata sulla parte online convegni di persona e online appunto e creare strumenti professionali per il professionista ebook manuali video tutorial ma per il professionista sia per il progettista sia per l'applicatore ma anche documentazione più basilare diciamo per l'utente finale passiamo quindi a vedere appunto il il mondo calce con una prima diciamo descrizione della calce cioè della materia prima cos'è e come viene utilizzata lo sapete naturalmente la calce è un legante storico utilizzato nell'antichità per l'edilizia e non solo e anche al giorno d'oggi viene utilizzata in molti campi li vedete anche nella slide appunto che stiamo presentando ad esempio abbiamo un utilizzo nell'industria alimentare per regolare il ph dell'acqua nell'industria farmaceutica viene utilizzato per preparare sali di magnesio e calcio nell'allevamento del pollame ad esempio viene usato per disinfettare la calce storicamente è utilizzata per disinfettare anche che ahimè mi viene in mente nelle fosse comuni per evitare la proliferazione di batteri nei cadaveri scusate la parte un po macabra è però appunto la disinfestazione e anche sempre nell'allevamento del pollame ad esempio viene utilizzato per inspessire il guscio delle uova in agricoltura appunto anche per la disinfestazione e per correggere l'acidità del terreno nell'industria del pellame per l'acconciatura delle pelli e nell'industria della carta per dissolvere le fibre di legno come avete visto più volte per più campi si è parlato appunto di disinfettare e di ph questo è legato una caratteristica importante della calce che vedremo anche più avanti ma che appunto il ph molto elevato avendo un ph molto elevato quindi una forte alcalinità la calce è in grado di creare un ambiente inadatto alla proliferazione di batteri ed è il motivo per cui appunto viene usato in tutti questi campi ma anche nell'edilizia per creare delle finiture che sono naturalmente antibatteriche non hanno bisogno le pitture ad esempio base di calce di antimuffa inseriti artificialmente diciamo così perché la loro alcalinità l'alcalinità della calce la rende appunto naturalmente antibatterica nelle costruzioni appunto come dicevamo è stata usata per per secoli è stato il primo legante utilizzato nel nell'antichità e anzi l'unico legante o quasi finché non è stato creato il cemento per la prima volta quasi l'unico legante chiaramente perché possiamo parlare anche dell'argilla come legante ma la calce ha una storicità elevata e fino agli anni 50 è stato quasi l'unico legante utilizzato abbiamo riportato tre grossi esempi dell'epoca romana di Colosseo il Pantheon e San Pietro tutti realizzati con legante a calce perché questo legante naturale è stato utilizzato per tanti secoli o meglio visto come abbiamo scritto nella slide perché viene tuttora utilizzato la calce innanzitutto perché ha un'elevata compatibilità proprio con l'edilizia storica quindi l'utilizzo di calce su edifici storici è quasi obbligatorio quasi nel senso che esistono edifici storici anche se rari non soggetti ad esempio al controllo della sovrintendenza ai beni ambientali ma anche in quei casi è sempre consigliato l'utilizzo di calci quando c'è un controllo da parte della sovrintendenza è obbligatorio l'utilizzo della calce proprio perché tutti gli edifici storici sono realizzati con questo legante l'abbiamo detto prima previene le muffe avendo una elevata alcalinità crea un ambiente molto basico non adatto alla formazione di muffe e di microorganismi è traspirante e quindi compatibile con qualunque tipo di edilizia è autoriparante è anche uno dei motivi per cui gli edifici storici sono diciamo si sono conservati nei secoli quasi intatti perché la calce tende a autoripararsi cioè quando si bagna si chiudono le piccole lesioni che possono essersi creati sulle superfici perché si riattiva e lega chimicamente le molecole vicine e chiaramente un po di quello che stai dicendo adesso ma anche dell'esempio che stai facendo vedere queste caratteristiche qui rimangono permangono comunque nel tempo permangono nel tempo assolutamente anzi è proprio considerato un legante vivo tra virgolette comunque attivo perché a differenza prendiamo chiaramente il l'altro principale legante ovvero il cemento e il cemento ha sviluppa le sue caratteristiche nell'arco di 28 giorni dopodiché ha diciamo ha sviluppato il massimo potenziale e li rimane e soprattutto chiaramente se vado a incidere una superficie in cemento l'incisione rimarrà per sempre la calce invece continua a trasformarsi anche ad anni di distanza continua l'opera di carbonatazione sempre più in profondità e appunto anche addirittura ad autoripararsi perché continua chimicamente ad agire e quindi mantiene le sue caratteristiche intatte e anzi vive nel tempo entrando un pochino più nel particolare possiamo dire che la calce si divide in due grandi famiglie in entrambi i casi abbiamo una cottura a temperatura tra gli 800 e 900 gradi che permette di ottenere i carbonati di calcio dalla materia prima la materia prima è soprattutto o meglio sono pietre calcare che vengono appunto cotte tra gli 800 e 900 gradi per ottenere due diversi tipi di calci la prima famiglia è la calcia aerea che è un legante che fa presa e indurisce a contatto con l'aria invece la calcia idraulica lo dicono anche i nomi indurisce in presenza di acqua la calcia aerea si ottiene dalla dalla cottura di pietre calcare pure e quindi che donano diciamo alla calce finale una maggiore qualità in termini di adesione di traspirabilità e di lavorabilità a differenza o meglio la calcia idraulica invece viene ottenuta dalla cottura sempre di pietre calcare che però non sono pure sono impure e sono dette marme quindi non c'è all'interno solo carbonato di calcio meglio non si sviluppa solo carbonato di calcio ma anche altre sostanze entrando più nel particolare senza chiaramente esagerare con la nomenclatura la calcia aerea è la cosiddetta calce viva spenta con acqua quindi viene idratata e adesso è appunto la calcia aerea quando la calcia aerea la calcia viva scusate viene idratata con acqua in eccesso si ottiene il grassello il famoso grassello appunto di calce non è nient'altro che calcia aerea spenta con acqua in eccesso quindi lo spegnimento è semplicemente una trasformazione una prima trasformazione chimica che avviene nella calce quando l'acqua è nella giusta quantità si crea comunque una calce in polvere che poi posso utilizzare appunto miscelando ulteriormente con acqua nel momento in cui aggiungo acqua ulteriormente ottengo quindi il grassello che invece è una sostanza liquida comunque fluida diciamo così e diventa ancora più liquida quando aggiungendo ulteriormente acqua ottengo il latte di calce questa nomenclatura è più che altro è importante perché i due termini grassello di calce latte di calce e a volte anche acqua di calce vengono spesso richiamate anche nei capitolati ma non sempre anche chi scrive i capitolati ha ben presente le differenze tra questi due prodotti e lo dico perché più volte ci troviamo di fronte capitolati con un po' di confusione e quindi secondo me era importante capire anche la differenza tra questi due elementi invece per quanto riguarda la calce idraulica abbiamo una suddivisione in nhl hl ed fl l nhl e si ottiene e cuocendo calcare marnoso e come si dice è la sigla nhl sta per natural hydraulic line ovvero calce idraulica naturale e diciamo la qualità migliore di calce che si può ottenere proprio perché è pura viene definita naturale nhl è proprio quando è pura quando invece all'interno ci sono altri materiali che lavanno che ne cambiano le caratteristiche non necessariamente la vanno a impoverire le camere caratteristiche ma la rendono meno pura come ad esempio possono essere il cemento o la loppa d'alti d'alto forno o altre sostanze che vengono inserite all'interno allora in quel caso si chiama hl viene definita hl ovvero hydraulic line non c'è più la n di scusate di natural proprio perché impura per così dire però ad esempio abbiamo detto la l'aggiunta di altri materiali ne cambia le caratteristiche non necessariamente la rende peggiore ad esempio di solito per lo meno gran parte delle calci hl hanno la possibilità di indurire sott'acqua dicevamo che la calcio idraulica appunto si come dice come si dice si raggiunge sue caratteristiche grazie all'acqua addirittura in immersione riesce ad indurire e maturare correttamente quando invece abbiamo la fl abbiamo una calce quasi un po più più povera più meno pura perché abbiamo una calce aerea di solito nhl con aggiunta di materiale inerte o comunque altre sostanze servono per fondamentalmente abbassarne il costo hanno usi differenti la calcia aerea dalla calce idraulica si applicano in contesti differenti o sono diciamo prodotti che poi di solito la calcio aspetta che torno la calce aerea essendo avendo appunto un indurimento con in presenza di aria viene utilizzata per creare o meglio per avere come base di partenza delle calci liquide ok quindi appunto il grassello di calcio una pittura è necessariamente a base di calcio aerea perché se fosse a base di calcio idraulica la presenza di acqua già la porterebbe appunto di induire ad indurire e a renderla inutilizzabile quindi di solito per quanto ci sia anche calcio aerea in polvere viene utilizzata nei prodotti liquidi o comunque pastosi anche il tonachini a base di calcio mentre per quanto riguarda la calcio idraulica invece sia in forma di di polvere perché proprio l'aggiunta di acqua poi che la fa indurire quindi fondamentalmente è questa differenza non tanto poi nel nelle caratteristiche finali certo anche se si tende a considerare la calcio aerea è quella più più pura più nobile diciamo così soprattutto per la questione del grassello di calcio che è storicamente veniva prodotto grazie alla maturazione in fossa si chiama veniva chiamato grassello di fossa perché veniva interrato per per mesi facendoli invecchiare facendoli acquisire caratteristiche di maggiore durata nel tempo e quindi era visto più come la calce nobile ecco dicevamo per quanto riguarda le le calci aeree abbiamo una norma una norma che la unien 459 1 del 2015 che la la classifica in calci calciche e dolomitiche le dolomitiche hanno la particolarità di non essere scusate la la tosse purtroppo qualche problema le calci domitiche dicevamo sono composte da calcio e magnesio mentre le calci calciche sono di calcio puro o meglio vedete il numerino 90 80 70 indica la quantità di calcio ovvero di idrossido di calcio rispetto al carbonato di calcio che c'è all'interno e quindi in un certo senso ne indica il grado di purezza quindi una calce cl 90 al 90 per cento di idrossido di calcio che diciamo la parte attiva della calce e un 10 per cento di carbonato di calcio che invece l'inerte diciamo così e quindi non rientra nella nell'azione chimica che si sviluppa nel tempo nella calce è una cl 70 quindi ha una quantità di carbonato di calcio di circa il 30 per cento quindi una maggiore quantità e quindi meno pura e la norma poi la divide a seconda dello stato fisico ovvero polvere granulare pasta o liquido per quanto riguarda invece la calce idraulica la normativa è la stessa e viene fatta una suddivisione come abbiamo visto prima in nhl hl ed fl e all'interno di queste tre prime classi viene diviso anche qua con un numero che può essere due tre e mezzo o cinque che indica invece la resistenza meccanica quindi la resistenza a compressione a 28 giorni indicata in megapascal quindi una nhl 3,5 è una calce idraulica naturale che ha una resistenza compressione 3,5 megapascal megapascal dopo 28 giorni 28 giorni come abbiamo detto come abbiamo visto anche per il cemento è il momento in cui ho o meglio i primi 28 giorni sono i giorni in cui ho uno un incremento maggiore delle caratteristiche meccaniche dopo i 28 giorni per la calce questo continua ma la curva si va ad appiattire quindi quello che si prende sono i 28 giorni per convenzione perché è lì che ho lo sviluppo maggiore di resistenza ok se non ci sono domande io passerei un po a vedere una domanda così così la esauriamo subito tu prima hai parlato di una caratteristica di auto ripararsi della calce un professionista ci chiede se c'è una correlazione tra calce calcestruzzi autoriparanti o se sono proprio due mondi separati no no sono due mondi separati diciamo che i calcestruzzi autoriparanti lo sono per inserimento di additivi che aiutano appunto questi legami chimici però non so onestamente se funzionano allo stesso modo cioè se vengono a creare lo stesso tipo di legame chimico mentre la calce lo è proprio per sua caratteristica naturale proprio il l'idrossido di calcio tende a formare continui legami nel tempo quindi rimane attivo ecco certo certo perfetto allora ci ringrazia il professionista credo che possiamo passare oltre allora parliamo un po del dell'umidità parliamo in questo caso dell'umidità da risalita anzi a proposito aggiungo una cosa anche se la vediamo più avanti la calce è un materiale che ha una bassissima idrorepellenza quindi ha una una tendenza ad assorbire l'acqua quindi se io ho una parete finita a calce che sia una pittura a calce o anche un intonaco a calce lasciato a vista ad ogni pioggia assorbe l'acqua che peraltro è quella che gli permette di creare continuamente i propri legami nel tempo e quindi la presenza di umidità da assorbimento della pioggia in un intonaco a base calce non è da vedere come un problema il problema sia nel momento in cui l'umidità arriva dal terreno e vedremo dopo perché ma anticipo che per colpa dei sali presenti nel nell'acqua che risale dal terreno non tanto per l'acqua stessa che come abbiamo detto è vitale per la calce quindi dicevamo l'umidità da risalita è legata a una scorretta realizzazione delle murature di solito le murature che storicamente hanno problemi di umidità da risalita sono le murature a sacco per quelle appoggiate direttamente sul terreno o comunque con un diciamo appoggiate direttamente al terreno quindi con un controterra non impermeabilizzato in questi casi chiaramente ho il il contatto diretto dell'acqua presente nel terreno con l'umidità che scusate con la muratura che assorbe l'umidità e poi la la fa salire oltre il livello del terreno e vedremo fra poco in che modo al di là dell'aspetto dell'impermeabilizzazione ci sono diversi tipi di mura c'è un tipo di muratura reagisce in maniera diversa c'è nel senso sono murature più portate ad avere questo problema di altre allora sì ed è legato fondamentalmente alla sia la composizione chiaramente una muratura in pietra ha un assorbimento una risalita capillare quasi esclusivamente nella malta d'allettamento perché la pietra assorbe poca acqua chiaramente e comunque non la non la fa salire oltre il livello del terreno ma anche lì dipende dal tipo di pietra chiaramente un tuffo è molto poroso e quindi tende a far salire maggiormente l'umidità una muratura di contro con un ad esempio un calcestruzzo ecco sto cercando qualcosa di poroso e uniforme un calcestruzzo invece tende a far salire l'umidità maggiormente rispetto appunto a una pietra dipende dalla capillarità che tra l'altro fra poco vedremo tanto più è poroso il materiale di cui è composta la muratura e tanto più è affine con l'acqua tanto maggiormente sale l'umidità tendenzialmente non ci sono murature che lasciate a contatto con il terreno non sviluppano una risalita capillare perché bene o male tutta tutto il materiale da costruzione a un certo assorbimento di acqua è il motivo per cui le murature moderne come nell'immagine di sinistra hanno una sono spesso impermeabilizzato meglio dovrebbero essere impermeabilizzate si deve bloccare il passaggio dell'acqua dalla muratura scusate dal terreno alla muratura e quindi si utilizzano le guaine impermeabilizzanti le vedete anche nell'immagine al centro anche se tendenzialmente non è fatto correttamente quel tipo di impermeabilizzazione però appunto devo bloccare il passaggio dell'acqua stavi dicendo qualcosa? no no dicevo perfetto tutto tutto chiarissimo ok dicevamo perché ho una risalita dell'acqua oltre il livello del terreno tendenzialmente sappiamo tutti che la teoria dei vasi comunicanti mi dice che mettendo in comunicazione due contenitori pieni d'acqua si l'altezza del livello dell'acqua si assesta su scusate l'acqua si assesta sullo stesso livello però nel caso dell'umidità risalita c'è appunto il fenomeno della capillarità si vede bene nell'immagine questa immagine in basso con diverse diversi tubi tubicini con diverse diversi diametri tanto minore è il diametro di un poro appunto di un tubicino o la porosità di un materiale della costruzione tanto più il livello dell'acqua tende a salire questo perché perché diciamo il il contatto tra l'acqua e la parete del capillare e porta a una forza di adesione fra i due elementi e tanto più è ampio il diametro del capillare tanto più la forza di adesione e la forza di coesione interna dell'acqua si equivalgono stringendo il diametro del capillare la forza di adesione rimane intatta la forza di coesione dell'acqua diminuisce perché ho una minore massa di acqua all'interno del capillare e dunque la forza di adesione del del capillare tende a richiamare l'acqua e quindi farla salire oltre il livello appunto in cui si trova nel terreno e si vede anche nelle zollette di zucchero dell'immagine in basso a sinistra dove ho appunto una una salita dell'umidità spero di essere stato chiaro di non aver fatto confusione con i termini chiarissimo direi dal punto di vista chiarissimo spero anche per i nostri partecipanti quindi dicevamo prima l'umidità non è di per sé un problema l'umidità la presenza di acqua nei muri ma il problema vero sono i sali quando l'acqua che arriva dal terreno porta o meglio attraversa il terreno e i diversi materiali che compongono la muratura porta con sé dei sali idrosolubili li trova nel sottosuolo stesso sono i sali minerali che servono per dare nutrimento anche alle piante sono presenti nell'acqua d'impasto dei dei materiali presenti nella muratura sono presenti nei mattoni negli inerti ne eleganti stessi nella calce in quantità molto ridotta nel cemento e in quantità molto maggiore rispetto alla calce quindi questi sali vengono trasportati e tendenzialmente trasportati poi verso l'esterno laddove poi l'umidità si palesa ai nostri occhi e nel momento in cui l'acqua evapora o la solidificazione di questi sali perché appunto l'acqua scompare i sali si disidratano e si diventano solidi appunto e sono le classiche e florescenze che vediamo sulle murature con sale anzi torno indietro di una slide vi vedete anche qua in basso nell'immagine in cui ci sono i mattoni ricoperti di sali ma anche negli intonaci queste e florescenze sono appunto i sali trasportati dall'acqua nel momento in cui ho una solidificazione quindi proprio una vera e florescenza una solidificazione all'esterno della muratura il problema è puramente estetico chiaramente non è piacevole vedere una fioritura di sali su una muratura però tecnicamente non intervengono questi sali in nessun modo sulla muratura stessa però la presenza di di vento di forte irraggiamento solare sulla parete temperature elevate può portare l'acqua di risalita a evaporare prima di raggiungere la superficie esterna del muro quando succede questo i sali si solidificano all'interno del muro e quindi ho la cosiddetta subflorescenza la subflorescenza è quella che effettivamente mi può creare problemi perché come dicevamo i danni di una florescenza sono limitati vedo il sale ma è in superficie nel momento in cui invece la solidificazione del sale avviene in profondità ma per profondità parliamo anche semplicemente di un centimetro cioè all'interno dell'intonaco e a volte anche più in profondità cioè in corrispondenza proprio della muratura il sale quando solidifica chiaramente aumenta di volume e si va ad accumulare nel tempo aumentando di volume spinge contro le pareti del meglio contro i pori della muratura in cui si va a scusate ad accumulare quindi lo vedete anche nell'immagine in basso ho una solidificazione all'interno di una parete chiusa quindi all'interno del poro i sali solidificano si accumulano e gonfiano trovano delle pareti solide quelle del del poro appunto dell'intonaco o della muratura e spingono arrivando a spingere nel tempo fino a rompere il poro aprire il poro stesso e quindi disgregare l'intonaco che li sta ospitando c'è una domanda da parte di un professionista ci dice osservo che i depositi salini sono più evidenti nei periodi freddi piuttosto che in quelli caldi è vero questo io aggiungo è dovuto eventualmente a una maggior umidità del terreno allora la diciamo la solidificazione dei sali in realtà tendenzialmente o meglio faccio una distinzione perché forse qua si sta parlando di efflorescenze le florescenze la quantità di sali diciamo è la stessa la quantità di acqua che viene assorbita dal muro tendenzialmente la stessa chiaro che è legata alla quantità di umidità nel terreno di acqua presente nel terreno però diciamo a parità di acqua l'umidità che viene assorbita dal muro è la stessa nel momento in cui ho una temperatura più fredda quindi d'inverno l'evaporazione si ha sulla superficie del muro e quindi è una maggiore un maggiore accumulo di sali da efflorescenza d'estate quando c'è più caldo magari c'è più vento maggior irraggiamento i sali presenti nella muratura sono gli stessi però la solidificazione sia in sub florescenza e quindi la rottura dell'intonaco però il sale che si vede maggiormente in inverno è quello della efflorescenza quindi quello superficiale perfetto direi chiarissimo ok quindi cosa fare per evitare la presenza di umidità da risalita ma soprattutto la rottura degli intonaci innanzitutto posso intervenire con dei sistemi di allontanamento dell'acqua dalla parete quindi evito che l'acqua entri in contatto con la muratura evito qualunque tipo di problema come fare questo si può fare attraverso drenaggi quindi la l'acqua arriva in corrispondenza della muratura ma io riesco a farla appunto drenare farla scomparire allontanare dalla muratura e quindi non ho la risalita e non ho quindi problemi legati alla risalita stessa posso fare tramite impermeabilizzazioni chiaramente è la situazione migliore metto una barriera impermeabile tra il muro e la fonte di acqua ovvero il terreno e chiaramente l'acqua non arriva nella muratura queste prime due soluzioni chiaramente possono essere realizzate quasi esclusivamente su edifici nuovi in caso edifici esistenti con un problema di umidità posso sempre allontanare l'acqua ad esempio creando degli intercapedini chiaro anche queste possono essere e soprattutto vengono fatte sul nuovo però una soluzione potrebbe essere quella appunto di allontanare il terreno fare un muretto di contenimento creare delle intercapedini con le classiche bocche di lupo e evitare che l'acqua entri a contatto con la muratura questi appunto dicevamo soprattutto su murature nuove edifici nuovi su edifici esistenti che hanno questo problema allora posso tentare di creare uno sbarramento fisico o chimico alla risalita quindi l'acqua arriva comunque contro il muro ma evito che salga oltre un certo livello come fare questo o con il taglio fisico della muratura che però non può più essere fatto e diciamo anche perché crea problemi strutturali alla muratura però per dovere di cronaca lo facciamo vedere perché veniva utilizzato anche questo tipo di metodo in questo metodo in questo modo chiaramente creo una separazione fra la parte bassa la parte alta del muro tagliando fisicamente il muro inserisco qualcosa di impermeabile solitamente vetro resina che appunto non assorbe l'acqua e quindi blocco nella parte bassa il l'umidità la stessa cosa si può fare con il taglio chimico quindi si inserisce una resina idrofobizzante all'interno del muro a una certa altezza come vedete nella parte centrale con vari sistemi che prevedono la l'impregnazione della muratura io vado a creare vado a saturare i pori che normalmente verrebbero saturati dall'acqua di risalita con una resina con una sostanza idrofobizzante e quindi l'acqua non può più salire perché trova i pori già occupati oppure sempre per allontanare per eliminare la risalita posso lavorare con l'elettrosmosi l'elettrosmosi mi cambia fondamentalmente la polarità tra muro e terreno e l'acqua che comunque ha una una sua polarità viene attirata dalle cariche negative diciamo dal terreno che è caricato elettronicamente negativamente e quindi la l'acqua non sale più perché viene allontanata dal muro fondamentalmente si lavora per polarità della della molecola d'acqua ci chiedono se nella tua esperienza funzionano questi sistemi questi ultimi che hai presentato allora risalgo la barriera chimica no no l'elettrosmosi scusami l'elettrosmosi allora l'elettrosmosi allora funziona soprattutto dove ho quantità ridotte di acqua è però un diciamo una soluzione che deve essere tenuta continuamente attiva quindi non vado a intervenire sul muro e poi me ne scordo quindi chiaramente deve essere costantemente elettrificato diciamo così il muro chiaramente non stiamo parlando di elettrificare il muro ma diciamo gli deve essere data una carica elettrica va continuamente monitorato diciamo così e funziona con umidità non troppo elevate altre soluzioni invece prevedono l'evacuazione dell'acqua a questo punto quindi sappiamo che l'acqua cioè non riusciamo a bloccare l'acqua prima che arrivi nel muro non riusciamo a bloccare la risalita ma cerchiamo in qualche modo di farla evaporare velocemente e magari proprio o meglio è a seconda della soluzione la facciamo evaporare in due punti differenti ovvero possiamo avere i sifoni atmosferici che praticamente mi creano una reazione all'interno della muratura ha senso soprattutto o quasi esclusivamente con la cosiddetta cassa vuota cioè dove ho due due murature in due setti in l'atterizio forato con un intercapedine al centro crea una ventilazione dell'intercapedine e quindi faccio asciugare l'acqua all'interno del muro non ho più le e florescenze sicuramente rischio di avere delle sub florescenze all'interno l'intercapedine laddove non le vado neanche a vedere e quindi mi disgregano il muro senza che io me ne accorga quindi anche questa è una soluzione che in alcuni casi può aver senso diciamo soprattutto dove ho voglio eliminare l'umidità ma ho una bassa presenza di sali e quindi non ho il rischio di sub florescenze l'ultima soluzione è quella che adesso vedremo è che l'utilizzo di intonaci macroporosi a cosa servono gli intonaci macroporosi chiaramente a base di calce ne abbiamo parlato fino adesso gli intonaci macroporosi servono per far evaporare l'acqua esattamente dove dico io ovvero nell'intonaco però a cioè non ho il problema legato alla classica evaporazione dell'acqua nell'intonaco che fa rompere il il poro e fa disgregare l'intonaco proprio perché si parla di intonaci alleggerito alleggeriti con dei macropori quindi si vengono a creare dei serbatoi tra virgolette all'interno dell'intonaco serbatoi per l'evaporazione dell'acqua e la cristallizzazione del sale quindi i sali hanno molto più spazio in cui evaporare scusate in cui solidificare e non rischiano di rompere l'intonaco o meglio chiaramente nel tempo questi pori si andranno a saturare ma in tempistiche molto più lunghe rispetto a un intonaco tradizionale e proprio per questo quando si parla di intonaci macroporosi si parla comunque di intonaci di sacrificio perché sappiamo che un intervento che va ad allungare notevolmente la vita dell'intonaco quindi della muratura ma nel tempo probabilmente si dovrà nuovamente intervenire questo tipo di intonaco dico probabilmente perché chiaramente anche qua dipende dalla quantità di sali se le quantità sono ridotte la l'aspettativa di vita diciamo così dell'intonaco si allunga notevolmente l'intonaco macroporoso e quindi probabilmente non vedrò mai la situazione in cui dovrò nuovamente intervenire se chiaramente i sali sono in grosse quantità comunque nel tempo dovrò nuovamente fare questo tipo di intervento però stiamo parlando appunto di tempi di vita almeno triplicati rispetto a un intonaco tradizionale adesso vedremo un po nel dettaglio e spero di non aver fatto troppo lungo pochi i materiali utilizzati per questo tipo di intervento si tratta di un rinzaffo un deumidificante un rasante che è presente in tre diverse granulometrie e una finitura che può essere un tonachino o una pittura tutto chiaramente a base di calce tutto nhl quindi calce naturale pura nel caso del rinzaffo parliamo di del primo strato che serve per creare l'adesione tra il muro e l'intonaco viene dato in spessori di 6 8 mm massimo un centimetro ha una fortissima adesione sul supporto e mi permette appunto di preparare il muro a e in più una diciamo delle caratteristiche anti sale quindi trattiene il sale più possibile all'interno della muratura per evitare appunto che vada a disgregare l'intonaco chiaramente quando solidifica o meglio il sale rimane nella muratura dove è ancora presente l'acqua quindi non va a solidificare l'acqua però in parte passa anche verso l'esterno e si asciuga quindi in questo modo evito la subfluorescenza non la mantengo in soluzione il rinzaffo deve essere lasciato stagionare massimo due o tre giorni prima di applicare il il deumidificante come vedete viene applicato o a macchina o a mano ma strollato diciamo cioè molto grezzo in piccoli spessori proprio per creare una superficie sufficientemente ruvida per l'adesione del deumidificante chiaramente scusate non l'ho detto questo tipo di intervento può essere fatto sia internamente cioè all'interno degli ambienti vedete la prima immagine in alto a sinistra sia all'esterno se fatto in combinazioni interno esterno chiaramente allunga ulteriormente la vita del della muratura perché crea una doppia un doppio serbatoio per i sali sia verso l'interno dell'ambiente che verso l'esterno altrimenti ci sono delle raccomandazioni se meglio all'interno meglio l'esterno o dipende fondamentalmente dalla disponibilità della parete cioè nel senso se possiamo meglio intervenire all'interno piuttosto che all'esterno dalla disponibilità ma soprattutto da dove ho il problema dei sali quindi se i sali si 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 mostrano all'esterno della parete è meglio intervenire all'esterno se si mostrano negli ambienti interni chiaro meglio intervenire all'interno quindi lascio che l'acqua continui a seguire il suo ad avere il suo flusso e intervengo lì dove crea il problema se poi ovunque sia il sale riesco a farlo sia all'interno che all'esterno chiaramente miglioro la situazione poi il secondo strato come dicevamo è il deumidificante in questo caso non abbiamo più uno spessore ridotto anzi è richiesto uno spessore di idealmente 3-4 cm perché questo? Perché il deumidificante è il cuore del ciclo deumidificante appunto e come abbiamo detto serve per creare un serbatoio ai sali i sali che non vengono bloccati dal rinzaffo arrivano nel deumidificante e devono trovare più possibile i macropori in cui solidificare tanto più spessore o di deumidificante tanto più sono presenti questi pori tanto più mi durerà nel tempo l'intervento se dovessi fare un centimetro di intonaco chiaramente mi durerebbe un terzo rispetto a un intonaco da 3 cm perché non avrei abbastanza spazio diciamo così per i sali deve essere miscelato molto a lungo cioè molto a lungo deve essere miscelato per una decina di minuti prima di posarlo per permettere all'intonaco di inglobare più possibile l'aria che gli servirà appunto per creare questi macropori una cosa che non ho detto prima per il rinzaffo ma dico adesso e vale per tutti i prodotti a base calce sia tutti i prodotti che sono all'interno del ciclo deumidificante che stiamo vedendo ma in generale qualunque prodotto a base di calce è importantissimo bagnare a rifiuto il supporto perché la calce per lavorare bene ha bisogno di acqua quindi io bagnerò la muratura e poi applicherò il rinzaffo bagnerò il rinzaffo per applicare il deumidificante bagnerò il deumidificante per applicare il rasante e così via questo perché altrimenti gli strati sottostanti come abbiamo detto la calce assorbe acqua se io ho un deumidificante asciutto e vado ad applicare un rasante senza bagnare tutta l'acqua presente nell'impasto del rasante verrà bevuta verrà assorbita dal deumidificante che c'è sotto e quindi non avrei abbastanza acqua per la carbonatazione del rasante e quindi otterrei alla fine un rasante molto povero e disgregante e ancora peggio con la pittura la pittura a base calce se non trova un supporto bagnato brucia quindi perde subito il pigmento diventa sfarinante e lascia delle alonature molto evidenti quindi sempre bagnare il supporto a rifiuto prima di applicare un qualunque prodotto a base di calce l'applicazione anche in questo caso può essere fatta a macchina o a mano dicevo prima della miscelazione a lungo miscelazione in betoniera se si miscela con il classico trapano miscelatore devo ridurre cercare di non aumentare troppo i giri del miscelatore per evitare appunto di stressare il materiale e di fargli inglobare troppo a poca aria come vedete nell'immagine in basso a destra la porosità dell'intonaco si vede anche ad intonaco asciutto chiaramente non è una superficie su cui poi posso andare a pitturare direttamente avrò bisogno quindi di un ulteriore strato lo strato di rasatura serve appunto per permettere di lisciare il supporto e poi avere una finitura sufficientemente appagante lo sguardo è presente in tre diverse granulometrie da 1 mm 0,5 e 0,1 mm le diverse granulometrie hanno bisogno chiaramente di una quantità di acqua diversa per la miscelazione so che in questa occasione forse è inutile parlare di miscelazione o altro ma ne approfitto per dire che è importante sempre leggere le schede tecniche dei prodotti perché a volte viene fatto tutto in base all'esperienza personale ma ogni prodotto è diverso e soprattutto con la calce devo stare molto attento alla corretta idratazione, al corretto trattamento dei materiali e quindi ad esempio vedete che lo stesso prodotto in granulometrie diverse può aver bisogno di 6 litri e mezzo di acqua o di 8 litri per sacco perché la diversa granulometria ha una bagnabilità differente appunto questa malta sempre NHL sempre a base di calce idraulica bianca viene stesa a frattazzo per scusate non c'è la slide a frattazzo sull'intonaco per creare una superficie liscia e di protezione finale dell'intonaco protezione perché chiaramente ha una densità maggiore non è alleggerita come l'intonaco sempre bagnando rifiuto e supporto altro dato che ci tengo a dire quando si parla della stacepro 0,1 quindi 0,1 mm è un rasante molto fine quasi paragonabile al gesso come proprio tipo di finezza non posso fare spessori superiori ai 2 mm altrimenti andrebbe a fessurare quindi quando è richiesta una finitura molto liscia di solito si usa in interno da 0,1 devo prima fare magari una mano di rasante da 0,5 da 1 mm per poi finire con una mano da 0,1 che liscia la superficie per finire vediamo le finiture qua ho messo il grafico di Kunzel ci sarebbe da parlare a lungo il grafico di Kunzel vi dico semplicemente che per chi non lo conoscesse indica l'area in cui devo andare o meglio indica le qualità di una finitura o di un rasante comunque di solito di una finitura affinché sia adatto all'utilizzo su parete quando è considerato adatto all'utilizzo su parete quando l'eventuale umidità che viene assorbita dal prodotto sia dall'esterno che per capillarità è minore della quantità di acqua che può essere smaltita questo si traduce in un grafico e in quest'area che vedete evidenziata all'interno di cui si vanno a sistemare le diverse finiture quindi se una finitura finisce in questa zona diciamo così è considerata adatta o meglio tanto più finisce all'interno di quest'area tanto più adatta per l'utilizzo in esterno questo ci indica che normalmente una finitura silosanica sarebbe quella sempre da preferire perché ha la maggiore traspirabilità e la maggiore idrorepellenza rispetto alle altre finiture per quanto riguarda però i sistemi deumidificanti in realtà l'idrorepellenza è negativa perché io ho un'umidità all'interno della muratura che voglio fare evaporare l'umidità evapora grazie alla traspirabilità quindi l'umido appunto il vapore acqueo passa se una finitura è abbastanza traspirante quindi nella parte bassa del grafico però se è idrorepellente nel momento in cui ho proprio presenza di acqua liquida come nel nostro caso potrei avere rischio di sbollatura perché se l'acqua non asciuga e spinge verso l'esterno nella sua forma liquida trova qualcosa di idrorepellente che si oppone a questo movimento dunque in questo grafico mi devo spostare verso la destra quindi verso l'idrorepellente ovvero silicati e calci in questo caso abbiamo messo una classifica dove la regina e la calce in terza posizione abbiamo l'ancora lotus che nel nostro caso è il prodotto silossanico sul secondo gradino del podio abbiamo i silicati i silicati come vedete nel grafico occupano lo stesso spazio della calce questo significa che hanno le stesse caratteristiche caratteristiche molto simili e anzi addirittura potrebbero essere preferibili perché pur essendo poco idrorepellenti però hanno una maggiore protezione rispetto all'acqua meteorica però è stato messo nel secondo gradino del podio perché la calce come abbiamo detto proprio all'inizio della presentazione è l'unico materiale che viene accettato dalle sovrintendenze quindi per gli edifici storici non posso usare neanche i silicati nonostante siano comunque finiture minerali poi dipende da sovrintendenza e dai casi però questo mi fa preferire comunque sempre una finitura a base calce sia per una continuità di materiale sia per questa scelta delle sovrintendenze e quindi ultimissime slide sulle finiture la finitura a riccio è un tonachino presente in tre granometrie 0,35, 0,75 e 1,1 mm e a base di calce aerea quindi come abbiamo detto è una pasta perché la presenza di acqua all'interno dell'impasto non la porta all'indurimento l'indurimento si avrà con l'aria dopo l'applicazione dicevamo è calce aerea spenta ovvero grassello o meglio non ovvero grassello calce aerea spenta in questo caso grassello quindi spenta con un eccesso di acqua può essere posato viene posato con la spatola in acciaio e per la finitura si utilizza un frattazzo in plastica per un effetto più omogeneo più moderno per un effetto più velato antichizzato invece si usa il frattazzo di spugna bagnato l'ultima finitura è invece il fresco fresco è una pittura sempre a base di grassello di calce sempre a base di calce aerea spenta chiaramente e deve essere posato assolutamente solo a pennello tutte le calci vengono posate a pennello quando trovate è un modo semplice per capire se un produttore vi sta rifilando della calce vera o della calce per così dire calce quando si parla della posa se viene accettata la posa a rullo significa che non è una calce vera perché la vera calce si posa a pennello a rullo rischia di bruciare cordonare bruciare sui bordi del rullo e creare delle linee più chiare tendenzialmente sulla facciata molto evidenti il motivo per cui appunto si posa col pennello anche perché col pennello riesco a mettere la giusta quantità e posarla in modo uniforme di solito con la stesura verticale e poi orizzontale su tutta la facciata in modo da uniformare il più possibile l'aspetto finale ok io ho finito qui come sempre trovate i nostri contatti www.settef.it è il sito della Settef che contiene al suo interno il marchio Cepro di cui abbiamo parlato e il numero del numero verde per qualunque informazione sui prodotti e anche per mettersi a contatto con i tecnici quindi a seconda della vostra area se avete bisogno di un sopralluogo in cantiere di avere qualunque indicazione o si spera di no dovesse esserci in qualunque reclamo venite messi in contatto col tecnico nel caso del nord-ovest dell'Italia con me nel resto dell'Italia con i miei colleghi alla fine la possibilità di iscriversi alla newsletter per qualunque nostra comunicazione i documenti tecnici che pubblichiamo le indicazioni dei nostri corsi e poi chiaramente sui social e su youtube trovate qualunque informazioni sul gruppo io con questo ho finito perfetto allora grazie Giuseppe sì qualche domanda che era già arrivata che è tenuta un attimino da parte rispetto a quelle che ti avevo già fatto allora partiamo innanzitutto ancora prima ti avevo fatto una domanda in partenza calce idraulica e calce aerea dove uso una dove uso l'altra ci chiede un professionista se la calce idraulica naturale è migliore per gli intonaci rispetto alla calce aerea tu adesso ci hai spiegato il perché ma fondamentalmente si può usare anche quella aerea o è proprio una caratteristica per cui si usa questa immagino il discorso dell'acqua utilizzare un'idraulica vada meglio per quel motivo sì tendenzialmente sì proprio perché comunque comincia a maturare a carbonatare nel momento in cui la miscelo con acqua e quindi va avanti correttamente nel tempo si può usare anche la calce aerea diciamo che il problema se così si può dire ma non è veramente un problema è che le tempistiche di maturazione potrebbero allungarsi perché appunto è il contatto con l'aria che gli permette di carbonatare nel momento in cui faccio un intonaco quindi due o tre centimetri chiaramente l'ossigeno l'aria arriva più lentamente nella parte più interna e quindi negli anni maturerà comunque però ci mette un po' più di tempo rispetto all'idraulica che ha acqua in tutto il suo impasto e quindi carbonata uniformemente certo perfetto allora altre questioni vediamo sì prima hai parlato di creare un intercapedine nei vari metodi diciamo di soluzione un professionista ci dice ok per l'acqua che riusciamo ad allontanare dalle pareti ma per quella presente alla base della fondazione come si interviene lì non c'è immagino molta soluzione se non fare un'impermeabilizzazione esatto cioè chiaramente nel momento in cui dovesse andare a sbancare o creare l'intercapedine comunque cerco di intervenire anche nel basamento è anche vero che diciamo le fondazioni essendo in calcestruzzo hanno un assorbimento minore o perlomeno le subfluorescenze che potrebbero avvenire nelle fondazioni possono creare molti meno danni perché il cemento comunque chiaramente ha una resistenza maggiore e oltre a questo è anche vero che nel momento in cui creo un'intercapedine tendenzialmente all'interno dell'intercapedine non avrò il raggiamento solare non avrò particolare presenza di vento quindi è più facile che si abbiano delle effluorescenze rispetto a delle subfluorescenze e quindi problematiche minori però chiaro che la cosa ideale è sempre l'impermeabilizzazione perfetto allora adesso un'altra domanda diciamo per fare un pochino di chiarezza a un nostro professionista ci chiede non so se è pertinente ma credo di sì quando valutare un intonaco osmotico e quando un macroporoso allora non è stato effettivamente preso in considerazione l'osmotico diciamo che hanno un funzionamento molto diverso perché chiaramente l'osmotico ha lo scopo di mantenere i sali e l'acqua all'interno della muratura il macroporoso ha lo scopo di far uscire l'acqua cercare di mantenere il più possibile i sali all'interno e farli far uscire far evaporare l'acqua l'osmotico nel momento in cui mi blocca l'umidità all'interno del muro io comunque ho un'umidità che in qualche modo cerca di uscire quindi se metto un cemento osmotico in interno in esterno scusate tenderà a sfogare verso l'interno se lo metto in interno e in esterno l'acqua comunque cercherà di salire ulteriormente come quando si mette che è un grosso errore il come si dice la delle zoccolature in pietra dove ho un'umidità da risalita dopo poco tempo vediamo che l'umidità sale ulteriormente rispetto alle pietre rispetto all'altezza in cui era prima perché comunque l'acqua all'interno è presente sale e cerca di evaporare quindi dicevo se metto l'osmotico sia all'interno che all'esterno cercherà di sfogare ancora più in su quindi di solito l'osmotico si utilizza ad esempio nei muri controterra cioè proprio muri di contenimento laddove comunque l'umidità rimane all'interno del muro eventualmente ritorna nel nel terreno ma non sfoga in un ambiente in cui non voglio che sfoghi mentre il deumidificante si utilizza nella civile abitazione di solito però è una questione di scelta allora ti faccio ancora una domanda poi passiamo a un caso specifico che è appena arrivato magari vediamo se riusciamo a dargli una risposta se no gli risponderai poi in separata sede allora aspetta vorrei farti però ancora una domanda si consiglia lo sbarramento con resina prima della posa dell'intonaco con il sistema dell'evacuazione o basta la posa dei vari strati di calce no tendenzialmente si utilizza o l'uno o l'altro sistema eventualmente l'utilizzo di entrambi il fatto è che è costoso chiaramente perché vado a intervenire con due con due interventi scusate il gioco di parole che normalmente vengono utilizzati singolarmente quindi si raddoppia il costo diciamo così però volendo avere uno sbarramento chimico e poi per tutto ciò che non viene bloccato dallo sbarramento chimico avere un intorno più di umidificante può essere una buona idea sicuramente migliora ulteriormente la situazione perfetto nel caso di una posa di un cappotto questa era la seconda parte della domanda ovviamente immagino che questo lavoro debba essere fatto prima in realtà la posa del cappotto è complicata perché se bisogna valutare caso per caso tendenzialmente in un momento in cui ho una evidente umidità da risalita soprattutto se ho la presenza di sali il cappotto non si può fare perché comunque abbiamo detto l'intonaco di umidificante è un intonaco di sacrificio vuol dire che fra 8 anni non sappiamo quanto dipende dal caso dovrò rifare l'intonaco se devo rifare l'intonaco su cui ho applicato un cappotto devo smontare tutto il cappotto chiaramente il gioco non vale la candela chiaro che se ho una muratura leggermente umida o comunque un'umidità in assenza di sali anche se da prendere con le dovute cautele perché non sappiamo mai se sono presenti i sali non li vediamo o se nel tempo potrebbero arrivare i sali però in quel caso allora potrei applicare un cappotto dopo chiaramente aver fatto un intonaco deumidificante di solito si utilizzano i cappotti meccanici che vanno a fissare meccanicamente sulla muratura l'isolante e bloccano qualunque rischio di formazione cioè di rottura dell'intonaco ecco o meglio diciamo non preoccupa più la rottura dell'intonaco perfetto allora come dicevo è arrivato un caso specifico vediamo se riusciamo a dargli risposta adesso in chiusura altrimenti ti chiederò poi ovviamente di rispondere in separata sede edificio esistente in muratura acqua di falda a meno 50 cm o quasi affiorante abbiamo previsto il taglio fisico della muratura in tonaco deumidificante calce dal taglio in su al di sotto fino al piede faccia vista protetto da un geocomposito drenante sul lato esterno ma senza un tubo di drenaggio dato che sarebbe sempre pieno ha senso? sì anche qua si mettono insieme vari interventi sicuramente laddove uno dei sistemi ha delle pecche perché poi non esiste il sistema perfetto gli altri vanno a sopperire sicuramente può aver senso personalmente quando vedo fisicamente il problema tendo a suggerire uno o l'altro intervento perché c'è sempre quello migliore per il caso in esame però nulla nulla vieta di unire più interventi come nel caso di prima certo perfetto allora io direi che abbiamo esaurito più o meno tutte le domande poi comunque in ogni caso se ci fosse ancora qualcosa ecco invito come sempre a fare riferimento direttamente ai tecnici dell'azienda perché no ci scrivete su eventi chiocciolaedicomeventi.com e sarà nostra cura eventualmente girare in questo caso a Giuseppe le vostre le vostre informazioni allora io vi ringrazio per aver partecipato visto che mi avete rifatto la domanda vi ricordo che sono disponibili gli atti tra un paio d'ore circa vi arriveranno via posta elettronica quindi li scaricate diciamo indicativamente verso le 6 quello è l'orario in cui li ritroverete nella vostra casella li scaricate in formato pdf potete riguardarveli tranquillamente altra cosa che ci avete chiesto e che potete riguardare tranquillamente comprensiva degli altri tre appuntamenti fatti con cromology e di tutti gli appuntamenti che da marzo a questa parte stiamo tenendo in diretta è la possibilità di rivederli sul nostro canale youtube era un po' che non gli facevo diciamo pubblicità ma su edicom news trovate canali youtube edicom news trovate un pochino le registrazioni le video registrazioni di questi webinar quindi potete andare lì rivederveli con calma anche se vi siete persi perché ovviamente ecco come dico sempre tutti lavoriamo magari qualcuno si è perso l'inizio potete andare a rivederlo tranquillamente quindi il mio invito è andare lì magari mettere anche iscrivervi al canale cliccare magari come dicono gli youtuber sulla campanellina di modo che rimanete sempre aggiornati visto che facciamo un paio di webinar al giorno e quindi anche quel canale viene abbastanza diciamo aggiornato ecco detto questo Giuseppe io ti ringrazio mi aggiungo i complimenti che stanno arrivando da parte dei professionisti per la tua competenza per le informazioni che hai girato se vuoi salutare dopo di che auguriamo a tutti una buona giornata un buon weekend visto che è venerdì grazie a tutti per qualunque cosa appunto contattateci e buon weekend perfetto grazie a tutti buon fine settimana ci vediamo a partire da lunedì ma tenete d'occhio il nostro canale Eventbrite grazie a tutti grazie a tutti